E per fare la tridimensione bisogna fare un grosso, tipo se fai un cubo e centri dentro, però bisogna fare un grosso. Non devi giocare. L'ha capito? Tipo così, te li fai anche lì. Permesso? Scusate. 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 Scusate, scusate, scusate. Scusate, 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 scusate. Scusate. Adesso devi spiccare in a te. Sì. 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 E poi per il pezzerino dopo devi mettere quello a sinistra. Quella a sinistra? Sì. 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 Vado a provare che siamo lì. Vado a dentro. Arrivo. Bravo. Sì, gliela stanno lì. Vado a vestire. Vado a vestire, grazie. Sì, quasi. Grazie mille. Allora, se pensate, la prima volta si inizia a montare. Vado a finire. Che difficile. No, no, no. No. che cacchio ma che cacchio? ma questa è una ora luce c'è ora c'è lavoriamo ora che fai? guarda sta venendo babba è il piccolo cu no lui ha oh adesso si vede oh dove hai chiuso il mio mattone? bella faccia guarderò oh guarda la spettacolo la lana? è una mano la prossima volta lo si fa tutto sperando questi qui sono io io ti consiglierei di mettere ma che bello però guarda la ma i tagli di spoli io l'ho fatto io bravo no metti la sabbia la sabbia la sabbia questa non è sabbia e terra è stata creata la sabbia è stata creata il naso che è un patto di mattoni e la bocca con del carbone possiamo entrarci dentro? lì è legno no se si trovasse un buchettino no scusa no scusa no quindi la prossima volta possiamo fare un altro modello forato forato va bene da questo qui allora la prossima volta foriamo dentro e facciamo il tridimensionale benissimo grazie 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 grazie